Eccoci qui direzione Siena il giorno dopo la fine del mondo per Siena-Napoli andiamo a prenderci la conquista del Monte Paschi Arena Rambone è andato in pensione Un saluto a te noi Un saluto per il nostro amico Salvatore De Rosa Che è diretto anche lui a Siena La data è 22 dicembre ore ore 7 e 29 7 e 29 Aria conizionata Avanti Napoli! Avanti Napoli! Siamo tutti in connessione Attenzione c'è una fuoriuscita di cazzo porifero Un saluto ragazzi Donnando a noi Volevo ricordare a tutti che il Napoli è stato penalizzato di 2 punti e è sprofondato in zona Europa League Quest'oggi conta solo il risultato La vittoria! La vittoria è un saluto The bambini The la bambini 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 A caldo verso Rambone l'intervista a Natale basta pensiero basta pensiero ma basta che vieni I maialoni avevano previsto! Allora voi dai chiusi il docenso! E noi andiamo a cena! E noi andiamo a cena!